ciao a tutti e benvenuti e cari ragazzi finalmente eccoci cosa no non ho pittato matta che devo pittare iniziato un nuovo video nuovo video asciugamano non ce l'ho non mi serve vero che fa caldo ma non ce l'ho marta scusa che cosa stai dicendo hai mangiato la torta non ho capito quanta che lì hai fatto la torre ventilatore ventilatore e fa caldo il ventilatore ok va bene marta scusami che cosa stai dicendo ma che lingua stai parlando va bene ho capito lasciamo stare allora marta tu fai una cosa io parlo e tu traduci in questa lingua ma che lingua è cinese giapponese va bene allora parla giapponese io parlo italiano così ci capiscono i nostri amici va bene allora cari amici rieccoci qui con i tuoi puoi tradurre quando finisco la frase però va bene posso ok grazie allora cari amici dicevamo guarda però parla quando ho finito di dire la frase perché altrimenti non riesco a dire ma basta facciamo una cosa marta basta con le traduzioni parliamo in italiano così il video marta parliamo italiano per cortesia non ci capiscono ok bravissima allora allora comunque ragazzi rieccoci di nuovo qui con un nuovo video ben tornati siamo pronti a farvi divertire ancora con una nuova con una nuova con una nuova sfida con una nuova sfida con una nuova sfida marta per favore puoi parlare in italiano non si capisce niente con una nuova ski dance eh ski dance non lo so non ce la faccio ragazzi non ce la faccio più a fare questi video penso che mi licenzio mi licenzio allora facciamo così premiamo il tasto per fare la parola italiana altrimenti questo video non lo riusciamo più a fare fammi sentire di ciao a tutti e benvenuti ciao a tutti e benvenuti fino a non ce la facevo più con quella traduzione simultanea prima di iniziare la sfida però dobbiamo salutare due di voi scelti a caso tra coloro che ci hanno inondati di messaggi e di commenti sotto i nostri video la prima persona è è Sara Lavorato ciao Sara ciao ciao e grazie del tuo dei tuoi commenti che ne ha fatti tantissimi andata marta avevo premuto il tasto dell'italiano l'altra persona che salutiamo è super Alessia ciao ciao quando si scaricano le pile di questo traduttore che non funziona neanche bene e allora ragazzi come dicevamo questo video sarà una sfida all'ultimo Genna questa sarà la sfida delle carte 1 spettacolare questo ingresso delle carte mi è piaciuto assai allora marta siamo pronti sicuramente conoscerete come funziona il gioco delle carte scusate un attimo devo raccogliere le carte perché mi sono cadute sicuramente saprete come funziona il gioco delle carte 1 perché è un gioco famosissimo quindi sicuramente lo sapranno no Marta guardami la carta allora prima di tutto bisogna mescolare e allora via guardate qui che così guarda che sistema Marta guarda 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 mamma mia mostro 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 facciamolo di nuovo pronti ole va bene questa non è andata molto bene non fa niente mettiamo così mettiamo normale allora cari amici siamo pronti per dare le carte ma prima Marta spacchere il mazzo vai Marta vai ottimo allora bisogna dare sette carte per ogni concorrente siamo in due quindi 1 2 3 4 5 6 e 7 allora poi bisogna girare una carta che in questo caso è il 9 azzurro blu scegliete voi che colore volete fare e viene messa a terra adesso a turno scarteremo una carta o blu del colore di questa qui oppure un 9 o una delle carte jolly che man mano vedremo le carte jolly sono quelle nere non so cosa mi sta dicendo però andiamo avanti allora vai Marta tocca a te scarta vai 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 fammi vedere che cosa scarti questo è il jolly il jolly e l'ho detto ai miei amici ah vai Marta scarta con il jolly dovete scegliere un nuovo colore vai Marta dici azzurro 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 e ce l'ho butto un bel 7 azzurro vai Marta cosa scarti cambio giro nooo cambio giro siamo in due quindi tocca di nuovo a Marta vai Marta non lo puoi buttare perché è blu e quella lì è una carta verde cosa tiri quattro quattro blu e io tiro un bel 6 blu vai Marta cosa scarti cosa scarti dai che vincerò vincerò ce la farò ciotro vai non ce l'hai? siiii quando non avete la carta da scartare bisogna pescare dal mazzo verde nooo ha trovato la carta giusta non fa niente non vi preoccupate ci penso io c'ho l'uno verde vai Marta vai ce l'hai verde? nooo c'ha lo stop quindi devo rimanere fermo un giro e un altro stop vai Marta tocca di nuovo a te un altro stop nooo e tocca di nuovo a te dai vediamo cambio giro non è possibile ma è troppo fortunata Marta dai vediamo che peschi ah non ce l'ha nooo pure un più 2 addirittura no Marta questo è truccato questo gioco eh uno e due dai vai tocca di nuovo a te non ce l'hai perfetto tocca a me e butto l'uno verde vai Marta ce l'hai blu Marta c'ha blu Marta c'ha blu allora butto il jolly e dico rosso una quando vi rimane una sola carta dovete dire uno altrimenti poi si prende tre carte dal mazzo ok quindi lei è rimasta con una carta quindi fortunatamente perché Marta oggi c'ha troppa fortuna non è possibile però che questa partita sta andando tutto nel verso di Marta qualcosa nel verso che devo andare che sono rimasto con quattro carte allora facciamo così io c'ho questo che cambio giro poi dopo c'ho questo che è rosso vai Marta tocca a te va bene Marta questa prima partita l'hai vinta tu ma sono sicuro che nella rivincita ti sconfiggerò no io eh noi vinco io lo so benissimo no io lo so benissimo perché ti sconfiggerò sarò il più forte di tutti vincerò questa challenger come al solito eh perché fino adesso Marta tutte le challenger l'ho vinta Marta che cosa stai dicendo che non ti vedo e niente ho molti dubbi su quello che sta dicendo Marta eh allora ecco qua mischiamo per bene tutte le carte e questa volta le carte le darà Marta ecco qua vai Marta forza dai le carte vai senti a me senti a te vai ce la farò a recuperare non può essere che Marta mi batti a questo gioco dove sono il più bravo al mondo due tre quattro cinque sei e sette ok Marta mi gira la carta nooo già questa carta qui devo stare fermo un turno e allora tocca a Marta che come al solito secondo me ha qualche trucco queste carte sono truccate Marta no non voglio giocare più ma non è possibile guardate alla prima occasione alla prima carta che aveva Marta guardate devo prendere quattro carte uno due tre e quattro tocca a te che colore dici eh rosso rosso dai che cosa dici eh nooo nooo non è possibile c'è un altro non è possibile Marta ma come è possibile un fatto del genere hai truccato le carte sono sicuro uno due tre e quattro che colore dici eh dai fammi vedere che scarti nooo ho 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 jolly allora azzurro 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 guardate cosa che tiro più 4 2 3 4 via 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 e dico 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 giallo dico dico giallo e poi tiro questo cambio giro tocca di nuovo a me poi dico 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 più due vai marcia prendi due carte una e due poi tocca ancora me però tocca ancora me dico 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 più due due carte ancora te e poi dico 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 che era due dico 33 blu 3 blu fai toccati marca posso vincere la cia posso fare recupererò tutto ce l'hai blu ce l'hai blu vabbè 55 blu 55 verde e vai marta vai 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 ce la posso ancora fare verde e no ragazzi toccati no a te troppo non voglio giocare più non si può giocare così tutte carte carte speciali dai toccati no a te no 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 ma sei l'improgliore non è possibile come come è possibile un fatto del genere 88 blu8 blu to8 blu 8 blu8 blu8 blu quelle le guardie se le prende quelle che ti piacciono vai passi 3 3 3 devo prendere la carta anche io va bene vai marta vai cioè tutte queste carte non c'è 3 1 1 1 1 1 1 1 vai verde c'ho l'uno verde ce l'hai che cos'è uno giallo vai tira 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 uno giallo c'ho il 9 giallo vai vai marta 4 4 giallo 1 giallo vai marta e io tiro il 6 giallo vai marta cosa c'hai cosa c'hai sto recuperando e ne sono tolte parecchie partita lunghi poi jolly dici rosso e io c'ho il cambio giro quindi toccano a me ma devo pescare perché non c'ho la fai 4 e non ce l'ho devo pescare a 55 no queste fortuna è no non ce l'ho vai no ferma giro marta ferma giro marta non ce l'ho no no che c'hai no ho perso come fai ma cos'è ma non ci credo marta che hai vinto marta non ci credo hai brogliato hai sicuramente non ci posso credere va bene non fa niente hai vinto tu va bene ecco qua te l'ho vinta anche se secondo me hai un po' ebrogliato però questa volta hai vinto tu la challenge va bene allora basta mi sono scocciato non voglio giocare più a questo gioco la prossima volta cambiamo gioco perché troppo troppo parte di questi occhiali visto che mi sta cambiando è che mi prendi anche in giro ecco qua va bene allora questa sfida a 1 la vita matta ma non vi preoccupate perché organizzeremo qualche altra sfida dove a distruggerò intanto io me ne vado perché mi sono un po' arrabbiato allora vi saluta solamente marca e da parte mia ci vediamo al prossimo video ciao a tutti vi saluterà martha no 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 mi sono arrabbiato ciao 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 allora ragazzi mettete tanti paradigme in su iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ciao e